Un'altra famiglia di algoritmi che andiamo a considerare è quella per il calcolo dei cammini minimi e quindi cosiddetti short spot o cammini più brevi all'interno di un grafo. Alla fine, per capire di cosa stiamo parlando, partiamo subito da questa domanda brutale. Cioè, se noi avessimo questo grafo, ci possiamo chiedere qual è il cammino più breve tra il vertice S ed il vertice V, quindi S è qua, V è là in alto. E' chiaro che a colpo d'occhio non è facilissimo da identificarlo. E quindi dobbiamo innanzitutto prima capire la domanda, capire di che cosa si tratta, cosa vuol dire cammino, cosa vuol dire cammino più breve, e poi cercheremo di capire quali sono degli algoritmi possibili che ci permettano di trovare, di dare una risposta a questa domanda. Noi con gli algoritmi di visita eravamo in grado di dire che da S a V, diciamo così, V è raggiungibile da S, quindi se faccio una visita a partire da S raggiungo V, perché lo vediamo subito, ad esempio con una visita in profondità, passo da S a U, poi da U a V e lo trovo subito. Ma, e so che lo posso trovare, facendo una visita in ampiezza, lo posso trovare a livello 2, quindi a distante due archi dalla radice. Però con un grafo pesato, questi due archi danno un peso di 3 più 6, 9, non sappiamo se andando a cercare nel grafo o altrove, ci sono dei percorsi che magari hanno un numero di archi maggiore, ma hanno un peso totale minore. Quindi, in qualche modo, stiamo aggiungendo complessità rispetto all'operazione di visita. La visita ci dice, guarda, lo puoi raggiungere sì o no, e lo raggiungi con un certo numero di passaggi. Qui, invece, ci chiediamo qualcosa in più. Cosa ci chiediamo in più? Allora, partiamo da definire che cos'è un cammino pesato. Noi avevamo già dato nella definizione iniziale quello che era una definizione di cammino. Un cammino è un insieme ordinato di vertici, i quali devono essere tutti, diciamo così, a due a due collegati da un arco. Nel caso di un grafo, invece, pesato, possiamo anche definire quello che è, che chiamiamo, il peso di un cammino. Quindi, abbiamo un grafo qualunque G con una funzione di peso sugli archi. Attenzione, che quello che diciamo adesso in avanti lo stiamo riferendo a un grafo orientato è pesato. Però, quello che diciamo vale anche, automaticamente, per i grafi non pesati, perché basta che questa funzione W valga sempre 1, restituisca sempre 1, e quindi tutto ciò che diciamo a proposito dei grafi pesati vale anche per i grafi non pesati, e vale anche per i grafi non orientati, perché basta che noi assumiamo che ogni volta che c'è un arco, diciamo, in un verso, ci sia anche l'arco nel verso opposto, e allora ciò che abbiamo detto su un grafo orientato vale anche, automaticamente, per un grafo non orientato. Quindi, noi, per semplicità, anche per chiarezza, ci riferiamo a un grafo orientato pesato, ma in realtà, questi ragionamenti, quindi tutto questo capitolo, vale per qualsiasi tipo di grafo. Ok, allora, in questo caso, noi possiamo dare la definizione, se conosciamo un cammino P, quindi, un cammino è una sequenza di archi consecutivi, ciascuno dei quali ha un certo peso W, dato della funzione di peso che mappa a ciascun arco un numero reale sperabilmente positivo, quindi il peso di un cammino P non è altro che la somma dei pesi dei singoli archi UV che compongono il cammino stesso. Quindi, banale, no? Già, lo vediamo sulla figura, diciamo, attraversiamo gli archi che sommiamo i numeretti, cioè i pesi che incontriamo strada facendo. E allora, il cammino minimo si può definire tra due vertici, innanzitutto, assumendo che i due vertici siano collegati. Quindi, se io ho un vertice di partenza U e un vertice di arrivo V, posso chiedermi se esiste il cammino minimo tra U e V. Innanzitutto, se esiste, vuol dire che il V è raggiungibile da U, e allora esiste almeno un cammino che collega via U. E questo cammino avrà un certo peso. Nel caso in cui esista più di un cammino che collegano via U, uno di questi cammini avrà il peso minimo. Allora, il peso del cammino più breve lo rappresentiamo con il simbolo delta. Delta mi ricorda distanza. Cioè, la distanza minima tra U e V è il peso del cammino minimo, del cammino di peso minimo. Scusate, cammino minimo non vuol dire nulla. Il cammino di peso minimo, perché noi abbiamo definito il peso di un cammino, tra il vertice di partenza U e il vertice di arrivo V. Per convenzione, per definizione, nel caso in cui V non sia raggiungibile da U, perché può benissimo darsi che io stia cercando di raggiungere un vertice che in realtà non è raggiungibile, allora indichiamo che la distanza è uguale a infinito, come numero convenzionale, come valore convenzionale. A questo punto nascono degli algoritmi che ci aiutano a trovare questi cammini minimi. E normalmente questi algoritmi fanno parte di due macrofamiglie. La prima macrofamiglia sono gli algoritmi con i detti single source. Cioè, mi permette di trovare i cammini minimi a partire da una singola sorgente, da un singolo punto di partenza. Quindi il problema lo si può formulare dicendo dati U e V, trovami il cammino più breve tra U e V. Oppure, dato un vertice U di partenza, trovami tutti i cammini minimi, cammini di lunghezza minima, ok, noi lo approfiamo da adesso in poi come cammino minimo, tra U e qualunque altro vertice. Quindi tutti i cammini minimi che partono da U. Io queste due li ho accorpati perché di fatto tutti gli algoritmi che sono in grado di trovare un cammino minimo tra U e V con la stessa complessità trovano tutti i cammini minimi. che ovviamente partono dal singolo vertice di partenza U. Allora, in questo caso li ho messi insieme perché in realtà non ci sono algoritmi più efficienti, dati che conosciamo, che lavorino conoscendo due vertici di partenza e arrivo, ma di fatto si usano gli algoritmi, diciamo così, che conoscono solamente i vertici di partenza perché appunto il loro tempo di recuzione è lo stesso. Quindi li mettiamo insieme. Esiste poi, in realtà, un'altra categoria di algoritmi che calcolano tutti i cammini minimi a partire da qualunque vertice di partenza a qualunque vertice di arrivo. Quindi fanno un'elaborazione unica all'inizio e alla fine ti danno un bel tabellone che ti dice per tutti i vertici di partenza 1,2,3,4,5 tutti i vertici di arrivo 1,2,3,4,5 nel loro incrocio qual è la distanza minima. Ovviamente dal punto di vista matematico molto spesso ci interessa sapere che esiste e qual è il metodo per calcolare quale sia la lunghezza del cammino più breve. Quindi alla fine questi, formalmente dal punto di vista matematico, questi algoritmi generano un numero come risultato, un numero reale, cioè il valore della lunghezza minima. Un po' triste avere solamente un numero o aver fatto tanti calcoli nelle applicazioni pratiche molto spesso non ci basta solamente avere il numero ma ci interessa avere anche quale sia effettivamente il cammino che ha quella distanza. Cioè dirti guarda che riesci ad arrivare in quel punto in otto ore va bene, grazie ma che strada devo fare? Ecco, questo è quello che ci serve quindi effettivamente l'insieme di vertici da attraversare o nel caso di un multigrafo o l'insieme di archi perché i vertici non sono sufficienti a definire un cammino nel caso di un multigrafo essendoci più archi possibili tra una coppia di vertici. Quindi, a questo punto ha senso la domanda che ci siamo fatti prima. Cammino minimo adesso abbiamo capito che cos'è. Cioè, tra tutti i cammini possibili tra S e V quindi noi abbiamo un cammino ad esempio che fa S, X, U, X, Y, V questo è un cammino possibile. ha un suo peso che è esagerato perché sono 5 più 1, 6 più 2 5 più 2, 7 più 1, 8 8, 6, 14 14 più 7, 21 però è un cammino di peso 21 tra S e V ce ne sono altri questo qua di peso 9 tra più 6, 9 è sicuramente più breve non sappiamo se sarà il più breve in assoluto il più corto in assoluto. nel momento in cui sviluppiamo gli algoritmi dobbiamo però riuscire a capire come rappresentare i cammini in modo efficiente noi in un algoritmo di ricerca stiamo considerando tantissimi cammini diversi contemporaneamente e li vogliamo memorizzare in un modo efficiente in modo che sia anche facile riuscire a ottimizzare e a scoprire se un cammino 1 è più breve o un cammino 2 o viceversa. Allora si è un pochino consolidata la scelta di queste strutture dati che sono quelle che si sono poi trovate più comodi. Allora innanzitutto se io conosco già tutti i cammini minimi quindi diciamo il risultato di arrivo quando mi dici sì ma mi serve anche i cammini ok questi cammini come te li restituiscono? beh te le posso restituire dannoti la matrice dei pesi la matrice della distanza quindi per ogni vertice per ogni vertice di partenza u e per ogni vertice di arrivo v ti do il valore della distanza tra u e v e questo è un numero reale è solamente un numero nel caso in cui abbia un algoritmo di tipo single source quindi parte da un vertice singolo questa è un vettore è un vettore che mi dà per ogni v di arrivo il valore della distanza nel caso di un algoritmo di tipo all pass quindi che considera tutte all pers scusatemi che considera tutte le coppie di vertici in un botto solo allora questa struttura dati sarà una matrice che indicizza vertici di arrivo e vertici di partenza ma poi questo è il numero questa è la parte facile la parte interessante è il il percorso vero e proprio allora come rappresentiamo il percorso? il percorso lo rappresentiamo definendo per ciascun vertice v che fa parte del cammino minimo quale sia il predecessore cioè il vertice precedente lungo il cammino quindi mi dicevo guarda nel cammino minimo contiene il vertice 27 ok prima del 27 cosa c'era? c'era il 18 allora io mi memorizzo questo questo è un'operazione che abbiamo già fatto se ricordate nell'esercizio della lezione precedente dove avevamo memorizzato l'albero di visita memorizzando per ciascun nodo quello che era il nodo precedente lì lo potevamo fare perché era un albero eravamo sicuri che fosse un albero ecco qui lo possiamo fare perché altro che un albero questo qua è semplicemente un cammino perché stiamo parlando del cammino minimo il cammino minimo è unico ovviamente un cammino lineare è anche un albero un albero un po' del genere perché non si ramifica ma è un albero e quindi di sicuro questa rappresentazione si può dare rappresenta solamente il risultato finale poi vedremo che in realtà ci serve anche per rappresentare il risultato intermedio però come fanno i matematici facciamo finta di conoscere il risultato finale e poi da lì ricostruiamo come ottenerlo quindi per ogni vertice ti dico qual è il vertice precedente quindi posso a ritroso capire qual era il cammino migliore da fare per raggiungere quel vertice quindi a livello di strutture dati se io ho definito un vertice di partenza che potrebbe essere U per ogni possibile vertice di arrivo ti dico guarda a questo vertice di arrivo ci arrivo con un peso pari a 70 e per arrivarci passo il passo precedente il penultimo passo perché l'ultimo è quello che arriva in V il penultimo passo passa da questo altro vertice e vuoi sapere il terzo ultimo passo vai a interrogare il vertice V e chiedi qual era il suo precedente e così via vai a interrogare il vertice scusa V punto preceding chiedi qual era il suo precedente V punto preceding punto preceding e così via vai all'indietro fino a quando non trovi il vertice di partenza quindi vuol dire che questo grafo in cui qualcuno si è messo a calcolare tutti i cammini minimi a partire dal vertice S si può rappresentare in questo modo quindi il vertice S si raggiunge da S con peso 0 è chiaro sono già lì il vertice U si raggiunge da S con peso 3 allora vuol dire che U lo raggiungo da S con peso 3 e per raggiungerlo il vertice presente è S quindi vuol dire che ad U arrivo direttamente da S prendiamo Y questo ci dice che Y si può raggiungere con peso 10 e come faccio a raggiungere Y con peso 10? qui mi dice che Y lo raggiungo da V e a sua volta V lo raggiungerò da X a sua volta X lo raggiungerò da U e U lo raggiungerò da S quindi il cammino più breve ci dice questa tabella per raggiungere Y è arrivare da V arrivare da X arrivare da U arrivare da S di lato contrario faccio SU peso 3 UX peso 1 e sono 4 XV peso 4 sono 8 V Y peso 2 e sono 10 e infatti 10 quadra quindi questa adesso non sappiamo ancora mettere questi numeri questi valori qua perché è il risultato che deve tirare fuori l'algoritmo però immaginando che l'algoritmo l'abbia tirato fuori questa tabella ci codifica tutti i cammini preso un qualunque vertice mi dice come far ad arrivarci perché mi dice ogni volta che passo indietro fare e quando sono la radice rifaccio lo stesso percorso in avanti e già mi riassume anche qual è il valore delle distanze questo è il nostro punto d'arrivo il risultato che vogliamo calcolare è una tabella un po' strana da leggere perché si legge al contrario però è molto compatta perché rappresenta tutti i cammini immaginate di dover disegnare come evidenziando gli archi questa figura ecco questo è molto più compatto tutto ciò che segue tutti gli algoritmi che seguono dipendono da questa semplice osservazione che è scritta in un modo un po' strano dice se io ho un cammino minimo e considero un qualunque nodo intermedio di questo cammino minimo allora quel nodo intermedio se compare anche in un altro cammino minimo che porta a un altro vertice di destinazione il suo precedente non dipende dal vertice di destinazione cosa vuol dire prendiamo due cammini più uno più due che siano cammini minimi quindi qui stiamo prendendo per ipotere il punto del rio quindi non sappiamo ancora noi stiamo costruendo questi cammini minimi supponiamo che qualcuno ci dica p1 e p2 sono dei cammini minimi entrambi partono da u ma arrivano in due punti diversi quindi p1 è il cammino minimo tra u e v1 ok potrebbe essere il cammino minimo tra s e x e p2 è il cammino minimo tra u e v2 tra l'inizio e un altro qualunque vertice questi cammini minimi possono essere cammini che non hanno nulla in comune tranne il vertice di partenza vanno per l'orostrada ma invece ipotizziamo che ci siano dei vertici che sono comuni ad entrambi i cammini magari fanno un pezzo di strada insieme ok per andare da Torino a Bergamo passo da Milano ma anche per andare da Torino a Venezia passo da Milano quindi Milano è ipotizzando che il cammino minimo per andare a Bergamo debba passare da Milano e quello per andare a Venezia debba passare da Milano allora Milano sta sul cammino minimo di due cammini diversi che partono entrambi da Torino e arrivano in due città destinazioni diverse allora questo lemma cosa si dice? si dice che se io prendo Milano cioè il nodo comune e vado a chiedermi qual è la città precedente rispetto a Milano che può essere non so se è rosa o settimo milanese insomma allora la scelta della città precedente o quale sia la città precedente a cui appartiene il cammino minimo non dipende dalla destinazione finale non dipende da V1 o V2 cioè se io prendo il cammino minimo da U a V1 e vado a vedere qual è il precedente di W e lo indico con P greco il precedente P per precedente e poi vado a prendere il P2 che è un cammino minimo tra U e W e se per caso P2 contiene anche lui W allora sono sicuro che il precedente di W è lo stesso è lo stesso quindi questo mi dice che detto in termini diciamo così più intuitivi se per andare nella città 1 nella città 2 in entrambi i casi qualcuno mi dice che il cammino minimo passa da Milano ok mi hanno detto che devo passare da Milano perché da lì passa il cammino minimo non mettiamo ancora in discussione come abbiamo fatto a saperlo ma ce l'han detto allora la strada da Torino a Milano è la stessa indipendentemente da cosa dovrò fare dopo quindi se un cammino minimo deve passare da un punto intermedio questo punto intermedio la strada per arrivare in quel punto intermedio è unica e non dipende da quale sia la destinazione finale e questo è fondamentale perché mi permette di disgiungere i cammini dicendo allora se mi dicono il cammino minimo deve passare da Milano io mi trovo il cammino minimo fino a Milano e poi da Milano in là perché sono sicuro che nel ragionare sul cammino minimo tra Torino e Milano non posso essere influenzato da quale sia la mia destinazione finale poi per carità se la mia destinazione finale è Genova ovviamente il cammino minimo non passerà da Milano ma se non passa da Milano il problema non si pone nessuno mi dice che per andare da Torino a Genova devo passare da Milano il lemma dice che se mi dicono che Milano è sul cammino minimo allora il modo per arrivare a Milano il percorso migliore per arrivare a Milano non dipende da quale sarà la tua destinazione successiva ok questo per come è formulato all'inizio è un po' strano ma poi è la base di tutto il resto è la base di tutto il resto perché ci permette di dire che io posso costruire un grafo che è un embedding di fatto è un'inclusione di tutti i cammini minimi in una struttura sola in una struttura semplice a grafo quindi avere tanti cammini diversi è complicato da gestire ma avere tanti cammini minimi è molto più semplice proprio perché un cammino minimo che arriva a un certo vertice non dipende dai vertici successivi ma solamente da quelli precedenti e quindi si può rappresentare sotto forma di di grafo perché se io considero ogni vertice V che sia immaginiamo abbiamo sempre definito il vertice di partenza ogni vertice V ha un suo vertice precedente che fa parte dei cammini minimi e questo l'insieme di questi archi è un grafo è un grafo che ovviamente contiene un sotto insieme degli archi del grafo di partenza anzi contiene esattamente tanti archi quanti sono i vertici perché ogni vertice ha un solo precedente proprio grazie a Lemma per arrivare in quel vertice il vertice precedente è definito è indipendente da altri fattori dipende solamente da qualsiasi dei vertici di arrivo e ovviamente l'insieme di vertici è la componente connessa a cui appartiene la sorgente ma fingiamo per il momento che il grafo sia connesso per semplicità non cambia la questione quindi di fatto dato un grafo noi possiamo costruire quello che è il grafo dei predecessori rispetto ai cui archi siano i predecessori all'interno dei cammini minimi allora questo grafo qua mi codifica quelli che sono tutti i cammini minimi del grafo stesso dal vertice di partenza a tutti i vertici di arrivo questo grafo di fatto non è altro che questa tabella che abbiamo visto prima ogni riga di quella tabella rappresenta un arco di questo grafo poiché il predecessore di ogni vertice è unico l'abbiamo visto dall'emma prima questo grafo in realtà è un albero è un albero perché ogni vertice ha un solo predecessore e quindi essendo un albero è aciclico e quindi i cammini sono unici cioè non esistono due cammini diversi minimi diciamo sempre grandi cammini minimi che collegano due vertici quindi sono tutte conseguenze delle definizioni che abbiamo dato alla fine abbiamo un albero dei cammini minimi che codifica tutti i cammini minimi in modo unico il grafo stesso non è unico nel senso che se ci sono dei cammini equivalenti magari il grafo può venire fuori diversamente ma una volta che l'ho definito i cammini sono unici e hanno lo stesso peso rispetto ad altri possibili grafi allora in pratica rispetto al grafo precedente questo è il grafo dei cammini minimi cioè contiene solamente gli archi che servono per raggiungere i nodi nel percorso più breve possibile gli altri non mi servono se voglio passare se voglio usare i cammini minimi che partono da S se voglio percorrere i cammini minimi che partono da S quindi come vedete per arrivare a Y devo passare da X e come arrivo a X se so che devo passare da X ci arriverò passando da U devo fare S e UX poi se da X proseguo per V proseguo per Y proseguo per altre direzioni il modo migliore per arrivare a X è comunque passare da U punto quindi questo mi dà l'unicità del processore e fa sì che questo sia un albero questo è un albero un po' del genere perché è lineare di fatto non ha branching ma in generale è un albero caso particolare nel caso in cui questo grafo sia un grafo non pesato quindi di fatto tutti gli archi pesano uguali allora questo albero dei cammini minimi altro non è che l'albero della visita in ampiezza quello che abbiamo calcolato nell'esercizio della lezione precedente in questo caso i due alberi coincidono se gli archi hanno tutti lo stesso peso perché la visita in ampiezza già mi dava il numero minimo di archi per raggiungere un certo vertice altrimenti se il grafo è pesato non è più vero questo esistono dei problemi diciamo matematici nel senso che se in un grafo esistessero un grafo di partenza ci fossero dei cicli e che è normale e dei cammini non se non ci fossero se un grafo senza cicli non si pone problemi dei cammini minimi perché in un grafo senza cicli il cammino è unico e quindi non si pone problema il problema di trovare i cammini minimi si pone in un grafo con cicli ciclico quindi il fatto che sia ciclico non è strano è normale in più questo grafo ciclico se avesse degli archi con dei pesi negativi è una cosa un po' strana perché vuol dire che passare di lì ti diminuisce il costo è un po' come dire faccio un pezzo in discesa e recupero energia come se avessi un'auto elettrica e quindi conviene passare di lì in un certo senso il problema avviene quando tu trovi un ciclo intero il cui peso la somma degli archi è un valore negativo e allora quel caso non si può definire il cammino minimo è un problema non definibile per capirci se io ho il percorso S A B G ho un percorso di peso 3 meno 4 più 4 totale uguale a 3 non mi crea particolari problemi esistenziali il vertice B sarà raggiungibile con peso meno 1 vabbè è un numero viceversa se considero il cammino centrale tra S e G dirò allora tra S arrivo a C con 5 5 più 6 fa 11 arrivo in D 11 più 8 fa 19 bene ma qui ho un arco negativo allora potrei dire ma io sono arrivato in vertice D con peso 11 potrei attraversare l'arco e tornare in C con peso 8 allora 11 in D meno 3 fa 8 non sarebbe una scelta furba perché poi se voglio arrivare a G devo fare da C e ritornare a D 8 più 6 14 e quindi ci ho perso 3 quindi questo ciclo non conviene percorrerlo pur avendo un arco negativo perché un giro completo ha un peso più 3 e quindi se un giro completo ha peso più 3 conviene non fare nessun giro piuttosto che fare dei giri la situazione è invertita nel caso di sotto in cui 2 va bene 2 più 3 5 5 più 7 12 ok ma attenzione 2 più 3 5 se io decidessi da F di prendere l'arco negativo 5 meno 6 fa meno 1 più 3 fa più 2 e quindi sono in F con un peso più 2 cioè se ci arrivo direttamente faccio 2 più 3 fa 5 ma se faccio S E F e F ci arrivo solo con 2 ma ancora di più se faccio un giro in più ci arrivo con meno 1 se faccio un altro giro ci arrivo con meno 4 e così via quindi qual è il minimo peso quindi il cammino minimo con cui riesco ad arrivare a F qual è la sua distanza da S più giro più si è bassa questo valore quindi di fatto tende a meno infinito allora in questo grafo se provassi a scrivere qual è il delta la distanza dall'origine dall'S di ciascun nodo su questi cammini non troverai nulla di particolare 3 meno 1 5 11 e su questo invece è meno infinito perché posso sempre fare un giro in più e il peso diminuisce ancora un po' e quindi vuol dire che in realtà questo vertice G non posso definire qual è il cammino minimo perché il minimo non esiste posso sempre diminuirlo quindi non ha un minimo non ha un limite inferiore in questo caso nessun algoritmo mi potrà dare la soluzione perché la soluzione non esiste il problema non è ben posto quindi in un grafo che abbia dei cicli negativi non si possono calcolare i cammini minimi in un grafo che abbia degli archi negativi come questo come questo alcuni algoritmi sono capaci a calcolare il cammino minimo altri invece no dipende dall'algoritmo l'arco singolo purché non sia includo in un ciclo che complessivamente ha un peso negativo ma questi sono problemi diciamo così accademici teorici perché nei problemi nelle applicazioni pratiche non si riscontra mai ovviamente questa stranezza ok andiamo avanti con i nostri ragionamenti noi avevamo il nostro grafo che abbiamo già capito come funziona ogni arco ogni vertice ha un predecessore e ipotizziamo che questo sia un cammino minimo allora se io applico questo è un cammino minimo v1, v2, v3, vk tra il vertice v1 e il vertice vk ci dicono che sia un cammino minimo proviamo da questo cammino minimo a estrarne un pezzettino v, v più 1 fino a vj quindi prendiamo un i che sia maggiore di 1 quindi non il primo vertice uno qualunque degli altri un j che sia minore di k quindi prima dell'ultimo tra i e j quindi una sequenza di un cammino minimo di una certa lunghezza io ne prendo una sottosequenza se io applico ripetutamente il lemma di prima che mi diceva che il processore di un vertice di un cammino minimo è unico allora questo cammino breve i j è anche un cammino minimo tra i e j e quindi vuol dire che ogni cammino minimo è composto da sottosequenze che anch'essi sono cammini minimi e questo ci dà la chiave per poter comporre un cammino più grande componendo quelli più piccoli un cammino minimo non potrà che essere composto da segmenti i quali a loro volta sono cammini minimi e quindi possiamo creare i cammini minimi piccoli e poi cercare di allungarli concatenarli insieme aggiuntarli insieme per avere dei cammini minimi più lunghi questa è un po' l'idea di base l'idea di base che riassumiamo in questa formula questa formula dice beh se io ho un cammino minimo tra s e v che considero l'ultimo cammino l'ultimo arco uv di questo cammino minimo quindi questo cammino minimo generale lungo fatto di tanti segmenti l'ultimo segmento arriva in v che è il mio punto d'arrivo e passa dal vertice u precedente ok questo è l'ultimo quindi noi possiamo pensare che il cammino p complessivo sia spezzabile in due parti da s cioè dall'origine fino al penultimo elemento e poi l'ultimo arco che va dal penultimo all'ultimo vertice allora poiché tutti i sotto insiemi sono i sotto cammini sono cammini minimi la loro distanza sarà data alla funzione delta che è la distanza minima il cammino la distanza minima tra s e v sarà uguale ovviamente al peso della prima parte del cammino più il peso della seconda parte del cammino il peso della prima parte del cammino per l'emma precedente è anch'esso la distanza minima tra s e il penultimo elemento e il peso dell'ultima parte del cammino visto che è fatta di un arco solo non è altro che il peso dell'arco stesso qui abbiamo applicato al caso particolare del penultimo arco la combinazione di due concetti uno è questo lemma che dice che ogni sottocammino è un cammino minimo e quindi la sua lunghezza è delta perché delta per definizione è la funzione che ti dà il cammino minimo e la seconda è l'additività del cammino la definizione di peso semplicemente fa la somma dei pesi degli archi e questo se ovviamente sappiamo già che U giace sul cammino minimo se non sapessimo che U giace sul cammino minimo vabbè allora un altro U' che non siamo sicuri che se è sul cammino minimo oppure no avrà questa relazione in cui all'uguale ho sostituito un maggiore cioè se io come U' prendo esattamente l'U del cammino minimo allora questo diventa un uguale l'abbiamo appena dimostrato dimostrato insomma argomentato ma se invece prendo un U' che è diverso da U ovviamente passare da U' cioè che questo calcolo che io faccio a destra passo da S vado fino a U' e poi da U' vado V avrà un costo maggiore un peso maggiore rispetto al vero minimo al vero cammino minimo delta Sv è il vero cammino minimo quindi se passo da U c'è l'uguale se passo da un altro U' che ovviamente sia collegato a V che sia un arco adiacente a V o un maggiore perché sto facendo una strada un pochino più lunga il penultimo passo è sbagliato non è corretto su questa disuguaglianza si basano tutti gli algoritmi si basano tutti gli algoritmi con un metodo che viene chiamato di rilassamento di fatto il concetto è se è vera questa disuguaglianza io posso andare a cercare tutti i vari U' e prendermi per buono quello che minimizza questa somma ovviamente questa somma io non la conosco perché per conoscere questa somma dovrei conoscere delta che è la distanza minima tra S e U' e la distanza minima non la so ancora la sto calcolando adesso quindi devo andare per approssimazioni successive però questa disuguaglianza mi dice che guarda che se tu trovi un U' che ti renda uguale questa disuguaglianza o addirittura te la migliori allora quello sarà probabilmente se non ne trovi un altro migliore più avanti sarà probabilmente sul cammino minimo e se tu trovi a un certo punto un insieme di vertici che ti rendono uguale tutte le combinazioni che tu puoi calcolare sul tuo grafo partendo da S allora quello per forza è il minimo se viene rispettato sempre questo uguale hai trovato il minimo allora vediamo di costruirlo allora lo costruiamo definendo le strutture dati che sono quelle che abbiamo definito prima quindi la funzione distanza la approssimiamo con un vettore che chiamiamo D attenzione delta è la vera soluzione D è il vettore che contiene delle approssimazioni successive che via via diventeranno delta al termine dell'algoritmo quindi D è un vettore della stima delle distanze dal vettore di partenza U dal vettore dal vertice di partenza S al vertice di arrivo U U che ricordiamo nel nostro esempio è il penultimo quindi noi ci chiediamo ogni volta prendo un vertice V riesco a trovare un predecessore U migliore di quello che ho adesso? se riesco a trovarlo aggiorno il peso e aggiorno anche la memoria di quale sia il predecessore ottimale quindi questo si può fare in essenzialmente due macro passaggi inizialmente diciamo così io il grafo non lo conosco ancora quindi l'informazione che ho su un grafo che non ho ancora analizzato sono molto banali la sorgente a distanza 0 a peso 0 perché parto da lì ho peso 0 per raggiungerla tutti gli altri vertici non sono eppure se siano raggiungibili quindi la migliore stima che posso fare è che la distanza sia infinita e che il predecessore non sia noto un bel null quindi inizializzo il mio algoritmo dicendo tutti i vertici sono non raggiungibili e non so come raggiungi a di tranne la sorgente che so che è raggiungibile con peso 0 questo è un'approssimazione bruttissima però diciamo così è un'approssimazione sulla base delle conoscenze che ho poi però posso applicare una procedura migliorativa prendiamo tre vertici cioè due vertici U e V con la funzione di peso W W è normalmente il peso degli archi allora chiediamoci questo per caso D di V rappresenta la migliore stima che ho per raggiungere V la migliore stima finora era infinito poi man mano migliorerà la migliore stima che ho per raggiungere V D di U rappresenta la migliore stima che ho per raggiungere U W rappresenta il peso dell'arco tra U e V allora se capita quindi D di V adesso io il vertice V lo sto raggiungendo in qualche modo non lo so ma nel modo in cui lo sto raggiungendo ho una certa stima della sua distanza il meglio che ho trovato finora se però scopro che conoscevo un modo per arrivare a D con una certa distanza questa distanza più l'arco che va da U a V mi danno una distanza complessiva che è più piccola minore di quella che conoscevo per arrivare a V allora ho scoperto un modo migliore per arrivare a V cioè qui sto dicendo che arrivare fino a U e poi passare da U a V costa meno che arrivare fino a V nel modo che già conoscevo allora rilasso questo è il senso della funzione relax rilasso la miglioro accorcio la distanza fino a V perché ti posso dire che adesso ah se questo è migliore butto via il valore di prima e mi prendo per buono questo ho trovato un modo migliore per arrivare a V passiamo da U e quindi predecessore migliore magari quello ottimale quando arriveremo al vero cammino minimo ma finora approssimandolo il migliore scusate è passare da V il suo è passare da U quindi per arrivare a V prima non so da dove passassi ma adesso ho scoperto che è meglio passare da U questo è il passaggio base quindi io so già in qualche modo come arrivare a V so già in qualche modo come arrivare a U e scopro che per caso arrivare a U più l'arco UV costa meno del modo che conoscevo per arrivare a V e allora aggiorno aggiorno la distanza nota e il predecessore questa funzione la posso chiamare ripetutamente quante volte voglio su qualunque coppia di vertici che ovviamente siano collegati tra di loro può darsi che questa IF fallisca boh non hai trovato nulla di meglio può darsi che questa IF invece mi dia un qualche cosa di buono mi dia una soluzione migliore tra l'altro questa quindi non peggiora ogni volta che chiamo questa funzione non può peggiorare il risultato lo può migliorare e ogni volta prende il valore di dd di V e lo sostituisce con un altro numero che è sicuramente minore per ipotesi qua e quindi noi partiamo con dei dd di V tutti infiniti e l'unica cosa che possiamo fare è o non li tocchiamo o li diminuiamo ripetutamente quindi ogni volta che chiamo una funzione di rilassamento o rimango dovero come conoscenza oppure miglioro la conoscenza cioè scopro dei modi migliori di raggiungere a un certo punto scoprirò che non posso più migliorare quindi vuol dire che sono già arrivato all'ottimo quindi tutti gli algoritmi usano questo meccanismo differiscono nel modo in cui lo chiamano in che ordine uso i vertici quanto li chiamo per volta come scelgo i vertici U e V da rilassare eccetera eccetera graficamente il rilassamento semplicemente è assunto da qua nel senso che io sapevo già sapevo raggiungere V con peso 9 adesso ho trovato che U che ha distanza 5 che in qualche modo lo so raggiungere con 5 è collegato con un arco UV di peso 2 allora è meglio usare quest'arco rispetto a chissà cosa ci fosse dall'altra parte che sia più lungo più corto non mi interessa perché di là avevo peso 9 e quindi è meglio usare quest'arco quindi sostituisco l'arco che arrivava a V che non so da dove arrivasse non mi interessa perché comunque mi dà un risultato 9 che è peggiore del risultato 7 che posso avere usando quest'arco sapendo che ho conosciuto un modo per conoscere per arrivare a U con 5 attenzione che questa cosa qua non è definitiva perché se poi più avanti trovassi un modo per arrivare a U con 4 ebbè dovrò di nuovo modificare perché questo 7 diventerà un 6 quindi non ho mai finito in un certo senso sicuramente non troverò mai un modo per sostituire questo 5 con un numero più grande perché il rilassamento non mi sostituisce mai un D con un D maggiore mi sostituisce solamente con uno minore se lo trova infatti se non lo trova se io sapevo già arrivare a V con una distanza 6 non so passando da dove e passare da U mi calcola un percorso che avrebbe distanza 7 ma chi me lo fa fare io mi tengo a distanza 6 e quest'arco qui l'arco c'è ma non lo uso di sicuro all'interno dei cammini minimi quindi chiamare la funzione di rilassamento significa applicare ripetutamente questa questa relazione e fa sì che dopo che ho chiamato rilassamento UV di DV è sicuramente minore o uguale sia del valore che aveva precedentemente sia di questo valore se non abbiamo dei cicli negativi che ci mandano in palla l'algoritmo noi quando inizializziamo il grafo con la metoda che avevamo messo prima cioè ogni grafo non conosco il precessore e la distanza ipotetica è infinita quello che ottengo è un grafo in quel caso non molto connesso però è un albero con S alla radice e ogni volta che io applico questa trasformazione ogni volta che applico il rilassamento non invalida questa proprietà quindi il grafo continuerà sempre a essere un albero che parte da S semplicemente questo albero lo sto via via aggiustando cioè ogni volta che faccio un rilassamento posso spostare un ramo di quell'albero fino a quando non arriverò non arriverò al punto di arrivo quindi se io potessi applicare all'infinito tutte le possibili sequenze di rilassamento la mia distanza via via diminuisce diminuisce sarà sempre ovviamente maggiore o uguale di delta perché delta per definizione è il minimo matematico ma quando D smette di cambiare non si riduce di più allora per forza vuol dire che D ha raggiunto il minimo quindi io posso applicare queste sequenze di rilassamento immaginate di avere un grafo prendete tutte le coppie di vertici tutte N quadro applicate il rilassamento a tutte e nessuna di queste viene rilassato effettivamente un vertice allora vuol dire che già eravate all'ottimo perché non riuscite più a migliorare nulla pur provandole tutte pur provando tutti i rilassamenti possibili allora siete all'ottimo allora tutti gli algoritmi cosa fanno applicano freneticamente questa operazione di rilassamento su tutti non sempre su N quadro vertici hanno dei modi più furbi di ragionare e si fermano quando hanno esaurito tutte le possibilità di miglioramento quando si raggiunge uno stato stabile a questo punto lo stato stabile è fatto delle distanze minime e il pi greco cioè la vettura dei precessori contiene i percorsi veri e propri poi ovviamente i vari algoritmi fanno cose diverse alcuni sono più ottimizzati su una single source altri sono ottimizzati sull'old source alcuni sono magari più complessi perché devono anche tenere conto degli archi negativi e quindi l'algoritmo risulta necessariamente più complesso in altri casi invece l'algoritmo dice già subito io gli archi negativi non li tratto e quindi l'algoritmo sarà più semplice anche se ovviamente applicabile su un numero minore di casi o di grafi e questa varietà la vediamo se andiamo a guardare il package alg.shortestpath dentro jgraph.t e vediamo che c'è una viriata intera di algoritmi possibili che possono essere utilizzati ciascuno diciamo così molti prendono il nome di chi l'ha scoperti tipicamente negli anni 60-70 si lavorava si scoprivano queste cose e se andate a vedere la documentazione vi spiegano per quali tipi di grafi sono applicabili quindi fatemi fare una veloce carrellata di quelli che sono i principali algoritmi che trovate ne vedremo tre di cui due molto rapidamente uno un pochino più approfonditamente che troviamo nella libreria Floyd Worshall è un algoritmo relativamente semplice da implementare e è in grado di risolvere il problema all source shortestpath quindi lo chiamate una sola volta e lui vi calcola tutti i cammini tutti ha una complessità lo vediamo qua che è una paginetta che avevo tratto da un libro di algoritmi una complessità migliore O di V al cubo peggiore O di V al cubo media O di V al cubo cioè questo è un algoritmo schiacciassassi essenzialmente se andiamo a vedere ingrandiamo questo alla fine è un è un triplo loop per ogni coppia UV e per ogni arco collegato applica il rilassamento essenzialmente e questo viene ripetuto la struttura dati qua è un pochino più complicata perché non ho solamente il vettore delta ma delta è una matrice non ho solamente il vettore pi greco ma il pi greco è a sua volta anche lui una matrice però con un algoritmo che internamente di fatto non ha quasi non ha quasi degli ife il rilassamento lo vedete qua scusate qua non entro nel dettaglio dei dati lo vedete qui ecco questo questo codice qua era il codice di inizializzazione questo è il codice di rilassamento vero proprio tre cicli TUV e va automaticamente a testare tutte le possibili combinazioni e lo ripete tante volte ripete il rilassamento tante volte fino alla nausea in tutti i modi possibili e si ferma dopo averlo ripetuto V volte e quindi vuol dire che è un po' come bubble sort che va avanti e so che se lo ripeto un certo numero di volte dopo che avrò raggiunto l'ottimo e non ci sarà più nulla da migliorare quindi questo è un algoritmo che dal punto di vista logico è semplicissimo ha una complessità via il cubo costante indipendentemente da quanto sia complesso il grafo è sempre via il cubo e però arrivo alla fine vi calco a tutte le distanze minime come dicevo non entro nel dettaglio del funzionamento dell'algoritmo perché non ci interessa più di tanto ci interessa solamente sapere cosa fa trova tutte le distanze minime i cammini minimi e ha una complessità via il cubo dentro J.GraphT questo algoritmo è implementato da questa classe Floyd-Warshall shortest path che come vi dice vi calcola tutti gli n quadro cammini minimi in un tempo pari a n cubo il calcolo attenzione che nel costruttore non viene fatto nessun calcolo i calcoli vengono invece fatti la prima volta che viene chiamato un metodo per ottenere il cammino quindi dentro alla fine lui ha un metodo getPath che ti dà il cammino corrispondente la prima volta che chiami un metodo lui fa il calcolo di tutti i cammini e poi quindi la prima invocazione del metodo è costosa perché ha la complessità n cubo le invocazioni successive di getPath saranno a tempo costante perché ormai l'informazione ce l'abbiamo già un altro algoritmo di quelli che brevemente vedremo è quello di Bermanford o Bermanford Moore dipende dai testi come viene diciamo così attribuito e questo è un algoritmo invece di tipo single source quindi calcola tutti i cammini minimi da una singola sorgente a tutti gli altri vertici anche lui è basato sull'algoritmo di rilassamento non è capace ovviamente funzionare se ci sono i cicli negativi ma questo è ovvio ma per fortuna non entra in un loop infinito ma se ne accorge quindi si ferma e può segnalare il problema la sua complessità è V per E di fatto V per E è che su grafi poco densi V per E è circa dell'ordine di V al quadrato su grafi molto densi invece è dell'ordine di V al cubo quindi su un grafo molto denso non conviene questo algoritmo perché con la complessità V al cubo che è quella di Bermanford ti calcola tutti i cammini ma solo da una sola radice da una sola sorgente quindi se tu li volessi di più a questo punto ti conviene Bermanford che con la stessa complessità V al cubo te li calcola tutti il bello di Bermanford è che non si fa influenzare dal grafo grafo sparso grafo denso lui è sempre V al cubo sempre triplo loop annidato invece questo qui chiaramente funziona molto meglio su un grafo che sia non troppo denso e quindi il numero di archi è dell'ordine del numero di vertici chiaramente moltiplicato per il grado medio che ipotizziamo sia piccolo e quindi sarà dell'ordine V al quadrato se mi serve dal vertice di partenza tutti i vertici di arrivo allora posso usare questo algoritmo su un grafo non molto denso posso usare questo algoritmo se già dovessi usare questo algoritmo per calcolare tutti i cammini minimi quindi ovviamente lo devo ripetere partendo dalla sorgente 1 partendo dalla sorgente 2 partendo dalla sorgente 3 e ripetendolo quindi n volte e di nuovo avere una complessità che nel caso migliore è n cubo V al cubo e ricadono di nuovo in Bermanford quindi lo schiacciassassi Bermanford scusami di Freud-Warshall lo schiacciassassi di Freud-Warshall funziona sempre tranquillamente con una complessità nota costante e non imprevedibile Bermanford funziona bene se io devo diciamo così ricavare questo il cammini solamente avendo noto il vertice di partenza di nuovo non entro nel dettaglio dell'algoritmo però questo è lo pseudocodice quindi come vedete sono tutti molto simili soprattutto queste due righe quali conosciamo questo è scritto in pseudopascal lasciate perdere la sintassi del pseudocodice di nuovo queste sono le righe del rilassamento cambia cosa? cambia il criterio con cui si rilassa qui vedete il V per E perché vuol dire che fa un ciclo esterno sui vertici e un ciclo complessivo sul grafo su tutti gli archi del grafo quindi il V per E salta fuori da questi due loop sono modi diversi di iterare i vari rilassamenti e poi arriviamo all'algoritmo invece su cui spenderemo un pochino più di tempo perché è carino anche da vedere da capire è un po' meno brutta forza è un pochino più intelligente l'algoritmo diciamo che possiamo chiamarlo di Dijkstra anche se non scommetterei sulla corretta pronuncia del nome di questo signore questo signore che è stato uno particolarmente diciamo attivo e famoso nel campo degli algoritmi che ha definito un algoritmo ancora più efficiente per le single source o altre spaz funziona sia su grafi orientati che non orientati purché tutti gli archi abbiano pesi positivi o al più nulli quindi a differenza di Bellman Ford che ovviamente non funziona se è un ciclo negativo ma se avessi un singolo arco negativo funziona ecco Dijkstra non funziona se avessi anche solo un singolo arco negativo e quindi si applica a un sotto insieme più piccolo di grafi se ho solo pesi positivi ma invece come vedremo è più efficiente e è una cosa particolare nel senso che è un algoritmo greedy cioè lui considera ogni combinazione una sola volta quindi rilassa ogni arco una sola volta quindi non fa diversi tentativi prima abbiamo visto l'esempio e abbiamo detto sì però se quest'arco se quest'arco di partenza venisse poi ulteriormente rilassato allora devo riconsiderare il rilassamento anche dei vertici che stanno a valle lui dice no io non faccio più rilassamenti dello stesso vertice aspetto il momento giusto per fare il rilassamento vincente e quindi lui gioca molto sull'ordinamento con cui vengono fatte le varie operazioni in questo caso questo è lo pseudocodice che si basa adesso lo vedremo meglio su un esempio si basa sul concetto di distanza minima cioè tutti gli archi da rilassare non vengono presi in ordine così come sono nel grafo ma vengono presi sulla base di una distanza minima rispetto alla partenza quindi vado a prendere per primi gli archi che mi danno un rilassamento con un valore di distanza minore rispetto agli altri e quindi se già prendo l'arco più piccolo vuol dire che una volta che gli assegno un valore di distanza questo valore di distanza non potrà essere ulteriormente migliorato perché ho già preso il minimo quindi la complessità in qualche modo la carica alla gestione dei minimi quindi qui servirà dentro d'Aistra una struttura dati che sia in grado di mantenere ordinata una sequenza di valori quindi posso inserire e restare valori ma in cui l'operazione di calcolo del minimo sia la più efficace possibile vedremo la settimana prossima che le code prioritarie sono una di questi tipi di strutture dati ma per ora non ci interessa la struttura dati interna cerchiamo di capire come ragiona a grandi linee l'algoritmo di Dijkstra allora anche lui questo è un grafo quelli in verde sono i pesi degli archi quelli in rosso sono le distanze note degli archi e questi qua sotto sono chiaramente riassunte le varie distanze io parto dal vertice A ok e mi chiedo qual è l'arco di peso minimo che posso considerare allora A ha una distanza pari a 0 ha due archi uscenti che sono quello 10 e quello 3 quindi io potrei dire che raggiungo B con peso 10 e raggiungo C con peso 3 e questo lo inserisco e S è l'insieme dei vertici che ho già considerato questi non li dovrò più considerare perché l'ho già considerato all'ottimo ovviamente il vertice partenza è all'ottimo adesso ho questi due vertici C e B che non ho ancora considerato e mi chiedo da quale conviene partire? allora C è raggiungibile con peso 3 B è raggiungibile con peso 10 allora lascio perdere B e parto da C e considero gli archi uscenti da C allora C per come l'ho ottenuto si ottiene in un passaggio da A non può essere ottenuto non può essere raggiunto in modo migliore di 3 non può essere raggiunto in modo migliore di 3 perché l'unico altro vertice da cui lo potevo raggiungere era B e visto che ho considerato C per primo la soluzione migliore per arrivare a C non può di sicuro passare per B perché B era maggiore di C e quindi lui ripetutamente fa questo calcolo di minimo a questo punto consideriamo i vertici uscenti da C e quindi abbiamo abbiamo un 3 più 4 7 che porta a B abbiamo un 3 più 8 11 che porta a D abbiamo un 3 più 2 5 che porta a D e quindi aggiorniamo la conoscenza dei vertici d'arrivo a questo punto di nuovo mi chiedo ma tra questi vertici qual è quello che posso raggiungere con costo minore? ecco qui l'algoritmo ovviamente sta ragionando sta elencando tutti i vertici e sta cercando di capire qual è il costo minore quindi questa è un'operazione che non avviene in tempo costante trovare il minimo di una serie di numeri che stanno cambiando ok? ma ovviamente in questo caso trova E quindi vedete che cerca di essere furbo nello scegliere quale vertice utilizzare e quindi prenderà E come terzo vertice e poi considera le conseguenze di E e quindi E come arco uscente lui poveretto non è solo 1 che è questo qua 5 più 9 fa 14 che non è migliore di 11 e quindi D rimane a 11 tranquillo adesso il prossimo vertice che considero quindi ho aggiornato i pesi il prossimo vertice che considero finalmente sarà B perché è quello che in questo momento ha l'ipotesi di distanza 7 e la posso consolidare perché di sicuro non ho nulla di meglio in giro nel grafo che mi possa me la possa far ridurre rispetto a 7 a questo punto vado a confrontare 7 più 2 fa 9 che andrà a migliorare questo 11 7 più 1 fa 8 e ovviamente non mi va a migliorare questo 3 ma lo sapevo già C l'ho già preso l'ho messo da parte perché sapevo di non poterlo migliorare ogni volta scelgo il vertice che in quel momento è più vicino e quindi so che gli altri che sono più lontani non potranno di sicuro migliorarlo è qui che entra in gioco l'ipotesi che gli archi siano tutti positivi perché se questo arco anziché 1 fosse un meno 6 invece l'ipotesi che C non cambiava più sarebbe non più valida e quindi abbiamo questo abbiamo completato l'algoritmo di Dijkstra e ci dà esattamente l'albero dei cammini che l'abbiamo trovato via via che scopriamo i vertici l'implementazione di questo algoritmo se lo implementiamo in modo banale ha una complessità E più via alla seconda e quindi dell'ordine di via alla seconda ma tutto sta nell'efficienza del calcolo del minimo quindi se riusciamo a calcolare il minimo in una complessità che è logaritmica log V e come dicevo le code prioritarie basate su hip che non abbiamo ancora incontrato ma che vedremo la settimana prossima sono in grado di ottenere questo risultato allora abbiamo una complessità che è V log V più E allora come sempre questo termine E rompe le scatole se il grafo è molto denso questo vale V quadro e quindi abbiamo o V quadro o per V la seconda e non ci cambia molto la sostanza ma se il grafo non è molto denso abbiamo un termine che è dell'ordine di V e un altro termine che è dell'ordine V più log V e che è decisamente meglio di V per E perché V per E è l'ordine di V al quadrato se il grafo è poco denso e l'ordine di V al cubo se il grafo è molto denso mentre invece qua su un grafo poco denso abbiamo un V log V se il grafo è molto denso invece abbiamo un V quadro perché domina questo primo termine ma sicuramente è più efficiente di Berman Ford abbiamo pagato cosa? abbiamo pagato gli archi negativi non li possiamo più usare ma in compenso abbiamo guadagnato in efficienza questo è il motivo per cui questo algoritmo è forse quello di prima scelta nel momento in cui vogliamo andare a implementare il calco dei cammini minimi e ovviamente anche nella nostra libreria JGraftT troveremo le classi che implementano il nostro algoritmo di Dijkstra cammino minimo adesso poi prenderemo un esempio per poterlo vedere in pratica quindi riassumendo in funzione dell'algoritmo che vogliamo del problema che vogliamo risolvere a seconda che sia un problema single source oppure all pass ci sono vari tipi di algoritmi possibili noi tra quelli che abbiamo visto c'è Floyd Walsh che ci dà l'all pass il Berman Ford che ci dà il single source ma poi se il Berman Ford lo ripeto partendo da tutti i vertici uno per volta ottengo ovviamente tutti i cammini così come Dijkstra parte da una sorgente sola ma se lo ripeto partendo da tutte le sorgenti n volte allora ovviamente mi darà tutti i cammini e a seconda di questa combinazione ho un certo tipo di complessità ho un certo tipo di limitazioni ad esempio quando uso Dijkstra ovviamente non devo avere nessun arco negativo mentre invece in tutti gli altri casi gli archi negativi possono esserci l'importante è che non costituiscono un ciclo negativo Bellman Ford si accorge se c'è il ciclo negativo e dà un errore Floyd Walsh invece non se ne accorge neanche perché ricordate il suo codice non ha nessun controllo in più non ha nessuna intelligenza quindi vi dà un risultato che non ha senso di fatto che non vuol dire nulla poi in realtà non dimentichiamoci il caso semplice il caso in cui il grafo sia non pesato e allora abbia il nostro algoritmo diviso e lineare tranquillo tranquillo di complessità o di V essenzialmente V più E che è ovviamente più efficiente di tutti rispetto a questa tabella perché ovviamente lui lavora su un'altra ipotesi semplificativa che i pesi siano tutti uguali e allora chiaramente calcola i cammini minimi ma può permettersi di calcolarli semplicemente con una visita in ampiezza quando queste cose qua si mappano sulla libreria JGraphT noi abbiamo queste varie tre classi che possiamo chiamare e queste classi restituiscono delle strutture dati che si chiamano GraphPath quindi ogni volta nel caso delle classi che restituiscono un singolo cammino restituiscono un oggetto GraphPath che appunto gli dà il cammino tra il vertice di partenza e il vertice di arrivo mentre invece gli algoritmi all pairs shortest path restituiscono normalmente una lista di GraphPath oppure una quindi ci sono tutti i cammini che partono da B oppure c'è il cammino che collega il vertice A con il vertice B possiamo a questo punto vedere anche in pratica quello che abbiamo raccontato a parole ma molto sinteticamente se noi andiamo a riprendere il nostro progetto di Metro Parigi vogliamo provare a calcolare i vari cammini minimi magari a partire sempre dalla nostra fermata di partenza ok allora immaginiamo di calcolare i cammini minimi usando D'Aistra e quindi abbiamo ad esempio una funzione public poi vediamo che cosa ritorna i cammini minimi in questo caso il grafo che abbiamo costruito era un grafo non pesato però gli argomenti ovviamente funzionano lo stesso a partire da una fermata di partenza partenza ok per farlo ovviamente uso l'algoritmo di D'Aistra D'Aistra shortest path eccolo qua ovviamente customizzato sul grafo fermata default edge e vediamo la documentazione di questa classe che ci dice che ops perdono sono uscito eccoci qua ci dice calcola i cammini minimi usando ovviamente l'algoritmo di D'Aistra quindi creiamo un nuovo oggetto chiamiamo D'Aistra di EJ l'oggetto new D'Aistra shortest path ecco vedete i costruttori qua ricevono il grafo oppure il grafo è un raggio massimo quindi la distanza massima a cui fermare l'algoritmo se il grafo fosse molto grande lui non si espande oltre al raggio che abbiamo passato per questo caso possiamo passare semplicemente il grafo e una volta che abbiamo questo oggetto quali metodi possiamo chiamare c'è un metodo get path vedete che c'è restituisce un get path che parte da una fermata di partenza e una fermata di arrivo e restituisce un oggetto di tipo get path quindi un cammino dalla fermata di partenza alla fermata di arrivo oppure get path con la s plurale che ci dà invece un altro oggetto un single source path che ovviamente è una collection di cammini perché gli passa solamente la fermata di partenza e quella di arrivo invece sono tutte essenzialmente mi dà l'oggetto che raccoglie tutti i campi quindi magari per fare cose semplici diamo una fermata di partenza una fermata di arrivo e chiediamo un get path da partenza ad arrivo e questo lo memorizziamo in un oggetto di tipo lo vediamo qua graph path cammino minimo uguale graph path ovviamente di ve quindi fermata di voltage e quindi facciamo calcolare dall'algoritmo il cammino minimo questo graph path questo graph path che oggetto è è un oggetto rappresenta un cammino in un grafo e la definizione di questo oggetto dove è andato vediamo se riesco a prendere al volo mi dà dei metodi come get edge list mi dà l'elenco degli archi o molto più comodamente mi dà un metodo get vertex list che è l'elenco dei vertici di quel di quel di quel nodo di quel cammino quindi se voglio stamparlo lo posso restituire semplicemente come elenco di vertici lui è un oggetto path che ha tutta una serie di informazioni come anche il peso la lunghezza ad esempio il cammino eccetera eccetera il peso eccetera ma a noi se a noi interessa solamente la lista dei vertici per questo avevo lasciato in sospeso il tipo perché magari al programma chiamante non interessano le strutture dati interne dei grafi quindi può restituirmi semplicemente una lista di fermate posso ritornare il cammino punto get edge vertex list quindi in questo caso lui come vedete è molto sintetico questo codice perché fa tutto lui si inizializza l'algoritmo calcola il cammino minimo tra uno di partenza e uno di arrivo chiaramente ogni volta che chiamo questo get path lui farà girare l'algoritmo se dovessi chiamarlo più volte a partire dallo stesso vertice di partenza conviene usare l'altro metodo che mi precalcola già tutti i cammini e poi mi restraggo con calma in questo caso volevo fare come esempio un solo cammino e quindi lo posso prendere e tradurre in un insieme di vertici che poi potrò stampare quindi se nel nostro programma di esempio vogliamo aggiungere anche questo noi possiamo credere chiedere allora la lista di vertici di fermata cammino come model punto cammini minimi da una fermata di partenza che non so prendiamo sempre la stessa a un'altra magari uno non so quale sia sarà un'altra stazione da un'altra parte e a questo punto possiamo provare a vedere il cammino che è stato calcolato magari per brevità fatemi commentare tutto lo stampone del grafo e della vista in profondità perché altrimenti riempiamo la console e quindi eseguendo questo programma troviamo un cammino che parte dalla stazione di Abess e arriva alla stazione di Ablon che probabilmente è la seconda nell'elenco delle stazioni e va facendo questo cammino da Bervapigal Anver Bar qui alcuni di questi vertici li riconosciamo certo che li riconosciamo perché questo è un grafo non orientato e l'algoritmo di Dijkstra non può che risfrostruirci l'albero di visita in ampiezza perché non abbiamo i pesi quindi sono già i cammini che conoscevamo che abbiamo già imparato a conoscere nell'albero di visita in ampiezza ovviamente qua non ci sono tutti i vertici teniamo bene la mente nell'algoritmo di visita il risultato sono tutti i vertici del grafo invece in un cammino minimo mi dà solamente un cammino che contiene i vertici indispensabili per quel cammino quindi non ho 619 vertici il risultato della visita mi dà 619 vertici il risultato di un cammino minimo mi dà invece un numero molto molto più piccolo di vertici che sono quelli ovviamente che mi danno in questo caso il numero minimo di fermate il numero minimo di fermate su questo grafo qua che è sicuramente un grafo che ha densità media molto bassa intorno al 2 e 3 tra 2 e 3 essenzialmente ho 619 vertici ho una complessità data da V log V quindi V 619 per il logaritmo 619 quindi sono dell'ordine di mille iterazioni più il numero di vertici il numero di archi che è di nuovo dell'ordine di mille vertici con migliaio di iterazioni ho una complessità di fatto V log V riesco molto rapidamente a trovare tutti i cammini che mi servono come vedete in un modo molto semplice l'unica complessità nel momento di cui cominciamo a usare questi algoritmi all'interno dei nostri programmi bisogna fare un po' di familiarità con questi altri due nuovi tipi di oggetti non tanto l'oggetto algoritmico perché tutto sommato lo creo lo richiamo e lui fa il suo lavoro più che altro con l'estrazione della struttura dati quindi graph path l'insieme di tutti i cammini insieme di tutti questi richiede un attimo vi invito a leggere la documentazione sul sito web in modo da cominciare a già vedere come sono fatti questi oggetti sempre con l'obiettivo di far fare il lavoro alla libreria e non farcelo noi a mano essenzialmente allora con questo concludo anche questo argomento sui cammini minimi che però nel caso di diciamo così problemi come quelli di logistica di trasporti sono essenzialmente il cuore di quello che possiamo fare su un grafo cioè trovare un cammino che sia efficiente tenendo conto dei cammini possibili dei pesi delle penalità eccetera eccetera quindi questo viene usato molto spesso mi raccomando usate i cammini minimi quando non basta usare una visita o viceversa sono due cose diverse quindi teniamole anche mentalmente molto distinte c'è l'unico caso in comune che è quello dei grafi non orientati in cui il problema delle visite e il problema dei cammini minimi coincide però tenete veramente separate mentalmente la diacenza tra vertici il cammino di visita e il cammino minimo a volte si vedono purtroppo negli esami persone che confondono la connettività tra due vertici che verifico o ottengo attraverso una visita con la diacenza tra due vertici che verifico semplicemente se c'è l'arco oppure meno sono due concetti diversi e tra la connettività tra i vertici connessi posso anche considerare quelli che sono i cammini minimi che sono chiaramente un insieme diverso rispetto a quello della visita ma con queste raccomandazioni un po' paternalistiche in vista dell'esame vi lascio chiudiamo questo argomento buona serata grazie a tutti